Catanzaro caccia del successo dopo tre pareggi consecutivi, potenza in cerca di continuità dopo le due vittorie di fila. Corapi, serie di rimpalli, la palla torna al capitano che in verticale va a cercare Curiale, occhio Curiale di testa, tutto regolare, che parata da parte di Richard Gabriel Marcone. Tina Ricci spetta il movimento in aria, decide per una soluzione bellissima, tesa, cercare dalla parte opposta coccia, Di Gennaro in estirada all'ultana. Tutto da solo, palla dentro, che passa dalla parte opposta, ancora verso Garufo, il destro di Garufo, sul primo palo, dice Di Gennaro Marcone, sarà corner. Un barriera per il Catanzaro, invece uno schema, palla che passa verso Salvemini, che sfiora il palo, sembrava fatta, lo schema era riuscito. Lunga Salvemini, prova a tenerla giù, occhio perché arriva l'arbitro, è giallo per Salvemini, è il secondo, è il giallo, diventa rosso, potenza in dieci, e dunque cambia il match al secondo minuto della ripresa e superiorità, con testa su Carlini, alza la testa, palla morbida, Fazio, la controlla, supera il portiere, che poi si oppone molto bene sul primo palo, bella questa soluzione, bella questa idea, bravo Fazio. Camillo su Cianci che inizia ad essere stanco, palla, che passa Curiale, che giocata, ma che parata di Marcone, era tutto buono. Rizzolo riesce in qualche modo a far arrivare a Curiale, poi rimpallo, occhio, evacuo, si è alzata la bandierina dell'assistente, non è finita l'azione, palla sul secondo palo, evacuo fuori, rinvio dal fondo, i più alti, palla in aria, colpo di testa, palla che in qualche modo viene allontanata dalla linea, esulta come se avesse segnato ancora di somma, anzi Cianci scusate. Sul secondo a cercare Porcino, che di testa la metta all'indietro, Rizzolo, da ottima posizione, Carlini allarga il gioco su Casoli, palla tesa all'interno dell'aria, non ci arriva evacuo, Curiale! Curiale sui titoli di coda, trova il gol, esplode la panchina giallorossa, Catanzano 1, potenza 0, aveva tenuto la squadra di Capuano, si è dovuto arrendere su questo ennesimo traversone, su questo ennesimo tentativo dalla destra, il tocco di Curiale sui titoli di coda! Qua può esultare anche la proprietà noto, vince il Catanzaro, 1 a 0 sul potenza, il gol sui titoli di coda, porta la firma di Davis Curiale, gol pesantissimo!